Jerry Scotti in lacrime. La notizia giunta in redazione pochi minuti fa. Sarà Fedez a condurre il famoso quiz show. Tutti sorpresi. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Colpo di scena nel mondo della televisione italiana. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Libero, nei primi mesi del 2024 potremmo vedere Fedez come conduttore del famoso quiz show storicamente condotto da Jerry Scotti. L'indiscrezione rivela che il programma andrebbe in onda dal lunedì al venerdì, dalle 18.45 alle 20, prima del Tg. La nuova edizione de «Il milionario» dovrebbe debuttare a gennaio 2024, prolungandosi fino a giugno o persino all'inizio dell'estate. Questa notizia ha suscitato grande sorpresa. Considerando che Fedez è principalmente noto per il suo ruolo sui social e per apparizioni in programmi come «Lol chi ride fuori» su Amazon. E come giudice ad «X Factor». Questo segnerebbe il suo primo ruolo da conduttore televisivo in un contesto così importante. Lo stesso Scotti ne è rimasto profondamente sorpreso dichiarando. «Non mi sarei mai aspettato che dessero a Fedez la conduzione di un famosissimo quiz show di questa portata. Vista la poca esperienza nella conduzione di quiz show». Nonostante questa possibile novità, al momento si tratta solo di voci di corridoio e non c'è ancora una conferma ufficiale da parte di Fedez. Sarà necessario attendere ulteriori dichiarazioni da parte sua per scoprire se questa indiscrezione si trasformerà in realtà. Nel frattempo, i fan sono in attesa di indizio conferme attraverso i suoi canali social. Staremo a vedere se il rapper accetterà questa nuova sfida e ci condurrà nel mondo delle domande e delle risposte. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.